Benvenuti al nostro TG Sport, cari amici di Telemolise. Iniziamo con il campionato di Lega Pro. Il Campobasso si sta allenando intensamente in vista della partita casalinga di domenica prossima contro il Poggi Bonzi. L'attimana tipo del Campobasso scorre tranquilla con il pensiero costantemente rivolto ai toscani del Poggi Bonzi, avversario temibile, ma che il Campobasso dovrà affrontare con un piglio diverso rispetto all'atteggiamento avuto domenica a Mugnano. In bimbo deve fare i conti con qualche acciaccato. Lo stesso Conate è stato tenuto a riposo precauzionale, avendo trascorso i giorni di martedì e di ieri dal fisioterapista per dei trattamenti particolari. Modica prosegue a lavorare a parte e è abbastanza difficile che riesca a recuperare per domenica. La terza di andata potrebbe vedere degli scenari alternativi rispetto alle ultime uscite. Le variazioni più consistenti potrebbero riguardare il reparto arretrato con l'esordio dal primo di Candrina, a fianco di Minadeo e una collocazione alternativa per Boi al posto dell'infortunato Modica. Gli under di base, cioè tre classe 92, dovrebbero essere sempre esposito forgione di libero, con quest'ultimo che potrebbe riguadagnare il centrocampo. L'esclusione iniziale dunque potrebbe ricadere su Rice, come contro l'Interreggio. Oggi si aggrega il portiere Zantier, classe 93. Non è l'unico estremo difensore in prova. C'è infatti anche Menegatto, classe 92. L'obiettivo del Campobasso è quello di accaparrarsi un portiere under per stare a posto con i difensori dei pali. Mister Limone, preparatore dei portieri, entro breve tempo emetterà il proprio verdetto su entrambi. Certo è che i portieri stanno costituendo una grana per il Campobasso. Dall'inizio del ritiro ne sono passati almeno dieci sotto gli occhi del tecnico dei portieri Rosso-Blu. In prova anche un laterale di difesa. Si tratta del classe 92, Pascucci, che può giocare sia a destra che a sinistra. La terza di andata offre non pochi spunti di interesse. I giochi sono iniziati da appena 180 minuti e già si parla di allenatori in bilico. Uno di questi si vocifera sia a Giuseppe Galderisi. La sonora sconfitta della Salernitana a Chieti, avvenuta sotto gli occhi attenti di Claudio Lotito, ha allarmato il presidente Granata. La gara tra Salernitana e Aversa Normanna potrebbe già essere l'ultima spiaggia per Galderisi. Le capoliste Aprile e Chieti hanno degli avversari abbastanza tosti. I laziali ricevono l'Aquila che ha espugnato la Rechi di Salerno due settimane fa. Non inganni la trasferta del Chieti contro il fanalino di Coda Fondi. De Patre contro Capuano è una sfida interessante, tutt'altro che scontata. Il Fondi vuole rimuovere lo zero in classifica. L'Arzanese cerca con ferme in casa del Gavorrano. I Toscani sono l'unica squadra del girone a non aver né segnato per ora né preso gol. Non solo Fondi e Salernitana hanno da sbloccare lo zero in classifica, ma anche la sorpresa in negativo Foligno che viaggia alla volta di Melfi. Senza infamia e senza lode l'esordio di campionato dei Lucani, due pareggi grazie a due gol fatti e due subiti. Tornando al Campobasso, la gara contro il Poggi Bonzi, una delle quattro toscane del raggruppamento B della seconda divisione, verrà diretta dal signor Paolini di Ascoli Piceno. Domani, a partire dalle ore 17, presso il Palazzetto dello Sport di Santa Croce di Magliano, è in programma la prima edizione del Memorial Luigi Venturini, torneo dedicato al presidente della Torre Magliano, scomparso in un tragico incidente stradale lo scorso anno. Oltre alla società organizzatrice, al quadrangolare parteciperanno la Scarabbeo Venafro, il Loreto ed il Bonefro. La Serie D, amichevoli in programma per le tre molisane, all'Ancellotta Lisernia farà un test in famiglia, domenica per l'attacco Farina avrà a disposizione anche Palumbo, che ha scontato la giornata disqualifica. Prove generali per il Termoli, che al Cannarsa giocherà un amichevole con la Juniores, l'Agnone invece affronterà la Turris di Mister Castaldi. Urbano vuole valutare nel migliore dei modi l'undici da mettere in campo, domenica contro il Città di Marino. Atletica domani si svolgerà a partire dalle 10.30, presso la Sala Raucci del Comune di Sernia, la conferenza stampa di presentazione delle manifestazioni sportive Corri Sernia e Trofeo del Matese Regione Molise. Ne abbiamo parlato con Agostino Caputo, Presidente della Nuova Atletica Sernia, società organizzatrice. Dalle 10 del mattino i bambini possono giocare in piazza stazione, grazie alla collaborazione di Tiziano Perpetua. Poi ci si potrà iscrivere alla non competitiva, aperta a tutte le categorie dei ragazzi e disabili, Trofeo Avis, Trofeo Aiga, Corri Sernia valevole come tappa del Corri Molise, come tappa del Corri Master, come tappa del Corri Adriatico. Ci siamo dimenticati qualcosa? No, no, penso che sia già abbastanza. Noi stiamo portando questa gara veramente a una manifestazione di livello nazionale, ma i numeri che stanno crescendo ci stanno facendo pensare ad altre soluzioni. Nei prossimi anni vedremo magari, ecco, pensavamo di allungare la distanza, perché magari Isernia meriterebbe pure una mezza maratona, forse. Chiaramente è difficile dirla adesso, però con i numeri che stanno avendo ci cominciamo a fare un pensierino. Vabbè, allora un invito alla città a partecipare al Corri Sernia 2012. Chiaramente si invita tutta la cittadinanza a partecipare a una giornata di sport, di allegria, e avranno modo comunque di assistere a degli atleti di livello internazionale e che non è facile ritrovare sulle strade molisane e gare così competitive. Chiaramente la sorpresa dovrebbe essere, ancora non ci danno l'ok, il nostro campione europeo Andrea Lalli, si spera di poterlo avere alla partenza dell'americana, e poi altri nomi che adesso non possiamo ancora svelare. Però ecco, quello è l'evento proprio emozionante, perché la gente veramente, ma anche i potisti che vengono da fuori regione, a Miran l'anno scorso e due anni fa hanno apprezzato molto questa gara. La nostra gara quest'anno abbiamo cercato pure di migliorarla, la Corri Sernia competitiva, aumentando i premi per le categorie, siamo passati a otto premi per le categorie da 35 a 55, perché i numeri sono tantissimi. Premeremo le prime dieci società con un pronte premio altissimo per un rimborso spese, quindi questo qua si fa sperare bene. Palla a volo, questa sera alle 19.30, l'Europea 92 Sernia sosterrà il suo primo test amichevole a Caserta contro la formazione di B1 del Volley Caserta. Si tratta di un amichevole di lusso, ma che servirà allo staff tecnico per controllare il lavoro svolto finora in allenamento. Domani sera, a partire dalle 20.30, presso il comune di Elsi, verrà presentata la squadra Boisi-Elsi-Metanzi-Lembo, inserita nel girone C di seconda categoria. Per il campionato d'eccellenza, domenica il Gambatesa sarà ospite della Maronea. Entrambe le squadre cercheranno di conquistare i tre punti, perché nessuna delle due formazioni ha centrato la vittoria nella prima giornata. Abbiamo avvicinato Abiuso. Pasquale Abiuso del Gambatesa, un esordio con un punticino, qualche gol mangiato di troppo. Vabbè sì, è stata una partita secondo me molto equilibrata. Abbiamo avuto un paio di occasioni noi, anche loro, è stato bravo il nostro potere come è loro. Non lo so, ci è mancata quella forza in più negli ultimi cinque minuti che abbiamo subito gol. Diciamo che siamo rimasti un po' con la bocca amara. Ecco, il prossimo incontro fuori casa la Maronea. Un'avversaria comunque temibile. Sì, certo. Comunque sappiamo che in eccellenza tutte le squadre sono temibili. Speriamo aiuto il risultato, giochiamo fuori casa. Almeno un pareggio ci sta bene, visto che noi sappiamo dal nostro campionato ci dobbiamo salvare. Primo anno in eccellenza, speriamo bene la prossima partita. Ecco, esordio nel campionato d'eccellenza, come vedi la fine, comunque sia il proseguo che la fine di questo campionato, anche se è ancora un po' presto per dirlo, però... Vabbè, abbiamo un'ottima squadra, un gruppo fantastico, siamo una famiglia qui, il mister, il presidente, tutti compresi. Dobbiamo lottare ogni partita, si sa. Se mettiamo la grinda giusta, ogni partita non andano a minuti, penso che ci possiamo anche salvare. E' terminato 1-0 il recupero della prima giornata di Coppa Italia tra Atletico Sessano e Nuovo Vinchiaturo. La formazione di mister De Bellis ha conquistato i tre punti grazie alla rete realizzata da Perrella al sedicesimo minuto. Amichevole per la Turris contro l'Olimpia agnonese, domenica il Santa Crocesi andranno a far visita al Montenero. Dopo il match di domenica contro il Sessano, vinto dalla formazione di mister Castaldi per 2-1, abbiamo avvicinato il sindaco di Santa Croce, Alberto Florio. Sindaco Alberto Florio, sindaco di Santa Croce di Magliano, innanzitutto è già un successo vedere la Turris nuovamente protagonista in un campionato regionale di eccellenza dopo quello che è successo quest'estate. Ci spieghi un po' tutta la querella? È sicuramente un miracolo vedere la Turris giocare nuovamente quest'anno visto che mi erano state riconsegnate le carte e quindi la Turris mestamente era destinata alla cancellazione dal campionato di eccellenza. Non potevo assolutamente consentire che ciò avvenisse dato i passati gloriosi della Turris e soprattutto per quanto riguarda punto di riferimento che rappresenta la Turris e lo sport in generale per la nostra comunità. Punto di riferimento e quindi sicuramente importante centro di aggregazione dal punto di vista sociale. Ciò non poteva assolutamente accadere. Ed è arrivata una squadra giovane con qualche elemento d'esperienza che nella migliore tradizione di questa società potrà fare divertire. Sicuramente l'inizio non è stato dei più incoraggianti questo è dovuto sicuramente al ritardo appunto della formazione della società sicuramente un ritardo della preparazione ma sono certo, sono sicuro, sono convinto che anche quest'anno la Turris giocherà il suo campionato. L'ultima cosa, prospettive per questa nuova società quali sono? Non lo so, lo devi chiedere ai dirigenti. Sicuramente comunque un paese come Santa Croce ha bisogno di una scuola di calcio. Ha bisogno sicuramente di una buona squadra di calcio e ripeto il punto di riferimento di tante persone, di tanta gente, di tanti giovani che trovano nella Turris, nello sport, un punto di riferimento. Ribadisco dal punto di vista sociale è importantissimo. Domenica la Maronea cercherà di riscattarsi contro il Gambatesa al Comunale di Monte Falcone. Ai nostri microfoni il direttore sportivo Cordisco. Fabio Cordisco, un esordio amaro per la Maronea. C'è nettamente di vario tra queste due squadre. Noi dobbiamo essere molto bravi, il mister, noi dirigenti e soprattutto il pubblico a capire e cercare questi ragazzi di tirarli su in settimana perché il nostro campionato inizierà domenica con la diretta concorrente del Gambatesa e poi abbiamo altre partite che sono di questo livello perché abbiamo subito il 19-19, abbiamo il Boiano, abbiamo la Turris. Quindi diciamo le nostre prime sei partite di campionato sono veramente come calendario, sono non dico proibitive però perché le partite si iniziano sempre da 0-0. Quest'anno sarà un campionato di eccellenza sopravvisto diviso in due tronconi, cinque e sei squadre e le altre che lotteranno per la salvezza. Noi siamo tra queste. Questo pomeriggio alle ore 18 la Virtus Boiano presenterà al Palazzo Colagrossi la scuola calcio. La formazione matesina dopo aver rinunciato alla prima squadra non iscrivendosi né in eccellenza né in promozione prosegue la sua attività con il settore giovanile. Questo pomeriggio al comune di Boiano saranno riuniti gli imprenditori, i politici e le famiglie dei ragazzi. Promozione dopo la vittoria in casa contro il Riccia, il Biferno cercherà di conquistare i tre punti anche in casa della Cliternina. Ne abbiamo parlato con il direttore sportivo Di Vito. Raffaele Di Vito è uscito il sole ma non è mai andato via, esce il sole anche per il Biferno. Avete riassistato questa squadra, tre o quattro innesti di quelli potenti, la squadra registrata nel migliore dei modi, vince la prima gara, quella che volate vincere perché la Coppa vi serviva solo da stimolo e da preparazione per il campionato. Sì, noi veramente quest'anno abbiamo fatto una cosa molto, abbiamo fatto una specie di rivoluzione, cambiando proprio tutta la squadra completamente, compreso anche l'allenatore per il problema di mister Giuseppe Marrone, ho fatto problemi familiari che ringrazia tutto quello che ha fatto fino adesso, sperando che ci vengano comunque a dare una mano anche come calciatori che noi rispettiamo sempre. Diciamo che siamo ripartiti tutto da zero, tutti i ragazzi locali della zona, proprio per ridare un po', pure per i ragazzi locali che tenivano poche possibilità di giocare in questa categoria un po' più difficile, quest'anno abbiamo fatto questa prova, vediamo un po' che cosa succede, l'importante è che noi ci salviamo. La differita della partita tra Viferno e Casalericcia andrà in onda su Telemolise 2, canale 12 alle 16.30, su Telemolise Sport canale 112 alle 20. Esordio negativo in campionato per il Ripalimosani, giallo-blu domenica andranno a far visti dal nuovo Montaquila anche loro reduci da un KO. Dopo il match contro la rinascita bussese abbiamo avvicinato il tecnico Bentivoglio. Siamo con Bentivoglio, mister Ripalimosani. Si notava, specialmente nella tribuna, che a voi manca qualcosina, specialmente in attacco e un po' al centrocampo, mi manca quel giocatore di esperienza e forte tecnicamente davanti un attaccante che la butta dentro. Sì, tanta buona volontà però... Sì, è vero, è vero, mancava l'attaccante perché D'Amico è entrato nella ripresa perché non sta ancora a posto fisicamente. Noi abbiamo Di Martino e Ernesto che è bravo, l'anno scorso ha giocato a Boiano, c'è un trascorso di tutto rispetto e momentaneamente ancora non può scendere in campo. Poi da Alessandro abbiamo dovuto metterlo dietro e invece perché avevamo delle assenze dietro, invece al centrocampo sicuramente ci darà quel peso e quell'esperienza che serve. Ripeto, a noi mancano solo i Juniors. Oggi la partita di oggi non fa testo, sul 2-0, parlando di Liposeno, non c'era più in campo. Già si pensa con la testa alla prossima partita, a Montaguila, con tutto un altro spirito. Sì, lo spirito sicuramente sarà diverso. Conto una squadra che parte tra le più accreditate per la vittoria finale. Io penso che questo sarà un bel campionato dove non vedo lo squadrone ma tante buone squadre. Il Cusso Molise sta provvedendo a ripianare e sistemare al meglio il campo da calcio del centro sportivo di Ferrazzano al fine di renderlo idoneo al massimo per l'attività agonistica. Il terreno di gioco in terra battuta è a disposizione anche del comune di Campobasso sia per le squadre di calcio che per le attività giovanili. Bene, è tutto per questa edizione del nostro TG Sport. Buon pomeriggio.